stiamo andando in un ristorante qui a Tarete, ma non so come si chiama, non so cosa cucina, non so. Andiamo a vedere un po' come lavora il ristorante, questo che sta facendo tutti questi lavori, questa sindaca è merda, sai d'algo. Come hai detto che si chiama il ristorante? C'è Pion, C'è Pion, C'è Pion, C'è Pion, C'è Pion. Il ristorante è bellissimo ragazzi, come si sente? Qua c'è Porgigo che c'è. Ovviamente è bello. Non so se si fa questo. Non so se si fanno bene. Non so se si s'abbiano a 45 euro. Il ristorante all'interno è bellissimo. L'ota negativa che fa un po' fritto, però è bellissimo. Allora la specialità di qua è il gigot d'agno. Andiamo a assaggiare. e diciamo che il peggio è questo lo stile per un peggio iniziamo con un antipastino allora che cosa è? pesca sessa allora com'è il proprio piatto che si sta? fricassé questo è l'oeuf a me quando fanno quell'uovo che è scerutiggiato da un pulino fa vomitare la cracco perciò non lo prendo mai fricassé ho l'ardò indire per piatto a me è un jambon stagionato iberico molto buio allora ci sono solo i preppesi due camerieri questi secondo me hanno dei piedi alla fine serata alla fine giornata lavorativa così enorme mamma mia come fa tutto freddo le giudagno è un po' più a qua questo qua è una specialità guarda che bello le giudagno diciamo che il piatto principale proprio di questo ristorante è famoso per questo che bello è la quale E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? Un'altra cosa? Non, come si Gérard è giù? C'è sempre il proprietario Il me lo dira Il me lo dira 48 anni C'è un po' di jet 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 Buon appetito Buon appetito E' un po' di jet 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 Comunque il signore qua sta lavorando Veramente Sta facendo proprio un colpo Così Così incredibile Il me lo stia facendo tutti i piatti è uno win Com'è? Bono? andiamo a provare Mangia mangia no ma ma per il vostro telefono no e non 30 secondi ma oh non non no non i piedi a fine senata la proprio distrutti i piedi come c'è un po' di parola parola che un po' di un po' di sourire da un po' di sourire sourire ah non è un po' di sourire e che è stato un po' di sourire e che è come roce che è che è ancora il nostro sourire allo fanno i più piccoli pezzetti voilà merci a tutti ragazzi mi faccio sapere con la votazione portuga a gusto 10 troppo affinché il pane per continuare top 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 e poi a prima di tutto è un agnello particolare delle zone di montagna del nord della francia ottimo allevamento ma proprio buono qualche fagioli in più i fagioli per le pulzette me ne mette e poi bene mette una bella quantità ottimo che cosa si si quanti piatti quando è buono i piatti devono essere consegnati così sempre dimenticato questo il pavete sul mondo è stato divorato allora un'altra specialità di questo ristorante è la presenza dei bell'eclietto in poche parole a Napoli sarebbe lo sciù dolce ammigato con la parte caramelizzata sopra del muscolo e la crema che portano in tenno quelli caffè e cioccolati quindi andiamo a testare anche questa specialità di questo tipico ristorante il ristorante è molto bello da quello che può sembrare il costo devo dire la verità i prezzi in moderato per esempio il prosciutto crudo che ne era parecchio è 16 euro il profiterolo che ho preso adesso è 11 euro poi vabbè c'è stato il piatto principale costa sempre 24-25 euro ma comunque rispetto agli altri ristoranti non ti fa il buco nel petto questo è quello che voglio dire nonostante che voi vedete questo dovete tenere conto che il ristorante è molto grande ha diverse salle e quindi sono tutte quante chic così quindi normalmente ti dovrebbe fare un culo al quadrato però vediamo alla fine si approfitteò ma ragazzi guardate l'eccezionalità di questo show eclair e quindi un'altra specialità del ristorante normalmente gli eclair sono così però guardate quanto è è uno spiladino non è neclair no deve girare il coltello deve girare il coltello eh 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 va là no è estremamente magnifico sì 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 no no è qualcosa di incredibile eccezionale eccezionale buonissima è buona la crema a caffè proprio buona proprio proprio buonissima operazione riuscita ma allora 183 euro diviso 3 su 60 euro per uno beh non è male sicuramente per quello che abbiamo mangiato per le specialità come sono state preparate poi qui a Parigi vi assicuro che 383 euro non è niente dove andate nella semplice brasseria che le pagate a due quindi ottimo ristorante super consigliatissimo per te venite qua assolutamente eclair e il cibo d'agnu è assolutamente da provare specialità proprio di questo ristorante assolutamente da provare cioè venite per provare questa roba qua ovviamente non sono ristoranti turistici quindi sono i ristoranti che fanno i francesi e quindi automaticamente per voi che siete turisti è un'occasione per capire una cucina francese di questa specialità quindi non è che andate a mangiare i ristoranti i ristoranti turistici andate a mangiare i ristoranti dove mangio i francesi ciao ciao a tutti ottimo ristorante super consigliatissimo ciao ciao